Sai che questa è la seconda parte che io devo mettere in onda perché mi ha chiamato Alessio Conti in questo momento qua Adesso devo mettere in onda l'altra parte io, hai capito? No, dicevo, può essere la partita in questa settimana decisiva questa? Cioè adesso più 5 sulla Roma con tutto quello che... Può essere... No, sai, su, sei sempre lì, e poi in un momento decisivo uno va via Può essere la settimana... no, decisiva no, perché 5 punti non sono... Importante perché può dare una svolta sia a livello tecnico, tattico che psicologico Oramai è la Juve di Allegri Si può definire... Si può dire, finalmente dobbiamo andare anche a... No, 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 questa si può definire la Juve di Allegri che ha giocato ancora a 4 Allora in finale quando è subentrato questo ha giocato a 5, 5 dietro 5-3-2, vabbè, che poi dopo può diventare 3-5-2 Tutte queste sono, volevo dire, seghe mentali ma non si può dire Covercianismi, sono covercianismi Esatto, covercianismi Però, insomma, dicevo prima, è una Juve che è uscita nel momento critico Noi dicevamo sempre, questa squadra se ha, scusatemi se può dire, le palle deve tirarle fuori nel momento topico Anche Tevez siamo in una squadra con le palle, o Pogba, chi ti ha detto? Tevez, Tevez Non mi ricordo, qualcuno l'ha detto Oggi Esatto, qualcuno Oggi è buono Però, peccato che Tevez andrà via, Pogba anche Vidal-Pur Tutti Tu? Tu cosa fai? L'Ikstein, ah no, L'Ikstein era rinnovata L'alto del partito Io resto Tu? Ma vanno, io, non so, io pro un bar, se andate così Ma io vengo anche al bar Pogba? Ti faccio il gioco dei percentuali Percentuali che può bar l'anno prossimo alla Juve, dai Che sia la Juve? Dobbiamo chiudere poi perché sennò è troppo Che resta? Che resta, io do 50% Vidal? Che resta alla Juve, io do, è molto collegato alla situazione di Pogba, secondo me Cioè, se vai a Pogba, resta Vidal Va bene, ti faccio la domanda di riserva Allora, Tevez No, Tevez Allora, il prossimo resta, ma quello dopo? Non resta No, 100% Pepe torna un giocatore di calcio vero? Lo spero vivamente per lui, per la persona che è e per quello che ha passato in tutti questi anni Vincerà mai Pogba al pallone d'oro? Sì Allegri sarà allenatore della Juve lungo? Ci sono i presupposti Riuscirà mai la Juve a vincere una Champions? Non lo so Se digiti su Google Alibi, cosa viene fuori? Alibi Grazie, Balsa, è stata una puntata fantastica Alibi è la tua Alibi, alibi Esatto, una lezione in latina Va bene, ciao Meg Ciao, ciao Due parti, la mia è in due parti Saluto a casa È piaciuta È piaciuta La prima parte me l'ha interrotta Alessio Conti chiamandomi al telefono Quindi pubblicherò tutte e due le parti Ciao, ciao Ciao Meg